L'Italia è un paese dove ogni statistica è falsata, la statistica relativa alla media italiana non corrisponde a nulla, il valore medio dell'Italia per il reddito, per le cose di così, non c'è, ci sono due Italie fortemente separate, che sono quella del nord e quella del sud, che hanno una differenza incredibile in termini di disoccupazione, in termini di reddito pro capite, di ricchezza, povertà, sviluppo, industrializzazione e così via, che poi vanno a finire dentro in una media che rappresenta un'Italia che non c'è. Io sarei veramente contrario, negherei quello che dico se dicessi che la stessa ricetta che va bene per liberare l'economia italiana dalla competizione della Germania non andrebbe bene per liberare il sud dalla competizione degli altri paesi. Quindi il fatto di avere un'unica moneta da Bolzano a Crotone, o per Bolzano e per Crotone, dovrebbe già far capire che c'è qualcosa che non quadra. Avere l'euro e poi dopo avere la stessa moneta da Francoporte a Crotone è stato ancora peggio e se ne sono accorti penso quelli del sud, però come lo risolvo la questione di queste differenze? Stato che per far diventare Crotone come Bolzano in modo tale che tutti potessero avere la stessa moneta, la stessa roba che dire adesso io faccio diventare Napoli come Monaco e così via, allora tutti potremmo avere l'euro. Non è così, bisogna riuscire ad accompagnare il processo perché semplicemente i trasferimenti finanziari abbiamo visto che non funzionano per creare sviluppo, ma è ovvio che non funzionano, lo sviluppo si ha quando parte il privato che trova conveniente fare affari in una determinata area, a quel punto poi dopo la sua inventiva, la sua capacità crea poi dopo il lavoro e lo Stato lo può accompagnare, ma altrimenti solo con il sussidio non si va da nessuna parte perché nessun privato si mette a investire in un'area sussidiata perché sa che se domani il sussidio finisce tu ti ritrovi lì con una fabbrica in un posto fuori mercato senza infrastrutture e senza niente. Per cui l'argomento che cos'è? Prima si esce dall'euro e prima si ritorna alla situazione della lira, perché? Perché le attuali aziende che ci sono, che sono il motore necessario per far ripartire l'Italia, ha bisogno di ripartire esattamente con la situazione in cui era prima, quindi con una moneta che diventa a quel punto vantaggiosa per l'industria del nord, così come lo era la lira per l'industria del Veneto e così via. Quindi l'attuale situazione con trasferimenti monetari dal nord al sud e una moneta di vantaggio per il nord rispetto sia al sud ma agli altri concorrenti europei è il primo passo, quindi prima si ritorna così e si rimette in piedi l'apparato industriale e la ricchezza italiana. Una volta fatto e spiegandolo bene, spiegandolo bene sia al nord che al sud cosa comporta, a quel punto possiamo pensare di avere due monete in uno stesso stato e gradualmente ridurre i trasferimenti monetari dal nord al sud in modo tale che poi dopo ci sia sviluppo vero. Ma va spiegata bene perché immaginate una Napoli con una lira sud, quanto conveniente diventerebbe far la spesa a Napoli? Io già mi vedo un bel po' di gente che prende e tira su il camion per andare a fare la spesa a Napoli dove conviene, perché a quel punto lo stesso prodotto che in lira nord o fiorino nord o quello che è, costa 10, col fiorino sud o la lira sud probabilmente costa 7. Il fatto di andare a comprare il prodotto a Napoli comporta che non lo si comprerà più a Firenze. Dall'altra parte però il fiorentino non dovrà più usare le sue tasse per mantenere invece un qualche sussidio a Napoli. Sono pro e contro che devono essere tenuti presente. Però se noi vogliamo pensare che il sud sviluppato sia una ricchezza futura per tutto il paese e che il sistema giusto non sia quello dei trasferimenti, dobbiamo considerarlo. A quel punto la moneta fisserà da sola il livello di convenienza per produrre al sud. Si regolerà automaticamente nel livello adatto, tale per cui per il sud o per qualsiasi imprenditori diventerà conveniente prendere e delocalizzare in questo caso in Meridione invece che da qualche altra parte. Perché è lo stesso argomento cretino che dice allora io voglio l'euro, allora facciamo così, dato che è meglio avere la monetona, se noi già siamo in grossi problemi adesso. Immaginiamo se inseguendo la monetona noi avessimo preso il dollaro prima della rivalutazione del dollaro e a quel punto noi chiudavamo secche tutte le nostre imprese perché a quel punto già siamo svantaggiati poi avremmo fatto una rivalutazione nei confronti dell'euro del 40% e a questo punto poi dopo una Giulia fatta Cassino invece di costare 40.000 euro costava 70.000 euro e una serie 3 invece costava 50.000 euro e a quel punto con tutta la simpatia che posso avere per la Giulia, se costa molto di meno la serie 3 della BMW la gente compra la serie 3 della BMW. Il sistema della monetona per attirare i fessi è stato utilizzato, ce lo ricordo molto bene a Vladimiro Giacchè per mettere in ginocchio la Germania Est. Quando ci fu il processo di fusione tra la Germania Est e la Germania Ovest si diede quattro marchi dell'Est, era il cambio normale per un marco dell'Ovest, venne cambiato uno a uno. In questo caso è stato dargli la super monetona, è stato un regalo per la Germania Est, è stato un regalo per gli spiccioli che la gente aveva nel salvadanaio, ma d'altra parte ha messo in ginocchio in brevissimo tempo tutto l'apparato produttivo che quindi è stato fagocitato poi dopo senza tanti riguardi, diciamo così, dalla Germania Ovest. Quindi così come io voglio avere una moneta più debole per la mia economia, non è uno sgarbo dare a qualcun'altro una moneta più debole, ma è un vantaggio.